Felicità è una parola tornata di moda in questi ultimi tempi. Da anni, precisamente da sei anni, le Nazioni Unite pubblicano ogni anno il rapporto mondiale sugli indicatori di felicità relativo a 139 paesi. Cosa si propone il rapporto? Di indicare come nel corso del tempo l'indicatore sintetico di felicità si muove nei confronti orizzontali tra paesi. L'Italia nell'ultimo rapporto figura al trentesimo posto e questa è stata una sorpresa amara. Al di là di questo, qual è l'idea di base della felicità? Quella della eudamonia aristotelica. Eudamonia è una parola greca che significa fioritura. Aristotele è stato il grande teorico della felicità per dire che la persona felice non è necessariamente la persona ricca, è la persona che riesce a fiorire, cioè a sviluppare appieno il proprio potenziale di vita. Oggi il tema della felicità, dicevo, è tornato di moda perché? Perché ci si è resi conto che i luoghi di vita, i luoghi di lavoro in particolare garantiscono i cosiddetti diritti umani fondamentali, garantiscono anche, non sempre però, condizioni eque dal punto di vista remunerativo, però non garantiscono affatto la soddisfazione e la gioia di vivere, cioè la felicità. Ecco perché si sta parlando con insistenza crescente di modificare l'organizzazione interna del lavoro dentro le imprese. Per essere un po' banali, è inutile aumentare lo stipendio a fine del mese all'operaio o al dipendente se nel luogo di lavoro, durante le 8-9 ore al giorno che trascorre, l'ambiente di lavoro è tale da non consentire la fioritura umana. Ecco perché oggi si sta parlando di fine del taylorismo e della sua sostituzione con un modello di organizzazione che ha il nome di olocrazia. Il modello olocratico ancora in Italia non circola, è un'idea nuova che viene dall'America, ma ho motivo di ritenere che non ci vorrà tanto prima che questo possa diventare, essere messo al centro delle attenzioni di tutti.